Ciao a tutti, proseguiamo dopo la realizzazione del trasmettitore a scintilla fatto con tutte cose recuperate proseguiamo facendo a questo punto il ricevitore già ho fatto delle parti indispensabili per il ricevitore come addirittura il coesore di calzecchi onesti trovate tutti i link dei video nella descrizione qui sotto necessita appunto subito di un po' di teoria perché dobbiamo andare ad analizzare il ruolo di ogni singolo componente e a cosa serve questa immagine che vediamo qui è uno dei primi ricevitori di Marconi da questa parte c'è la classica stampante telegrafica quella con il naso di carta e il pennino per fare le puntine linee e questa parte qua praticamente è il ricevitore qui si vede abbastanza male ho riferito solo questa però preferisco questa immagine tutte le varie parti che compongono il ricevitore di Marconi in questa parte qui c'è il coesore che è questa parte il decoesore di cui adesso praticamente a breve andremo a parlare la batteria del circuito di ricezione del decoesore il gruppo batteria invece chiaramente era il decoesore e l'elettromagnete del ricevitore telegrafico vero e proprio della stampante qui questa specie di barattolo sarà la parte più complicata da realizzare perché è un relay galvanometrico che in genere veniva chiamato all'epoca relay pony adesso andiamo a vedere il ruolo di ogni singola parte di questo ricevitore possiamo fare riferimento allo schema scusate che ok allo schema originale diciamo di Marconi questa è la parte trasmittente l'abbiamo già vista andiamo alla parte ricevente antenna coesore terra e qui praticamente questo è il passaggio delle onde elettromagnetiche che vanno ad eccitare il coesore poi qui vediamo questo cosino qui che è il decoesore il relepponi e le batterie che alimentano la stampante telegrafica e il decoesore e poi invece questa piccola batteria che alimenta questo circuito qua praticamente il circuito ricevente vero e proprio e il circuito oltretutto pilota di tutto il resto con il relepponi eccolo qui bene passiamo ad uno schema un po' più semplice di questo perché questo qui è un po' complicato eccolo qua e andiamo un po' più sul semplice e andiamo ad analizzare il ruolo di ogni singolo componente allora sul coesore già ne ho parlato ampiamente sappiamo che praticamente una volta che il coesore viene investito da una onda elettromagnetica si eccita e dallo stato isolante passa allo stato conduttore si comporta né più né meno come un vero e proprio interruttore comandato da un impulso elettromagnetico per lavorare meglio per essere più sensibile ha bisogno di un filo verticale l'antenna e di una connessione a terra di una presa a terra in questa maniera il coesore diventa notevolmente più sensibile che altrimenti ci si potrebbe fare veramente poco con il coesore questo è il circuito praticamente che alimenta un sensibilissimo relè che appunto è il relè telegrafico, il relè pony ed è alimentato da una piccola batteria queste due bobine hanno un ruolo importante perché bisogna far sì che il segnale a radiofrequenza che arriva dall'antenna passi tutto dentro il coesore e si chiuda praticamente il circuito radiofrequenza da questa parte il segnale a radiofrequenza non deve passare qui non deve passare all'interno della bobina del relè pony perché questa bobina influirebbe sul funzionamento ci sarebbe una dispersione di segnale allora queste due bobine bloccano il segnale a radiofrequenza praticamente chiudono il circuito alla radiofrequenza che è così obbligata a girare solo qui in questa parte qua qui invece gira solo la corrente continua quando il coesore investito da un'onda elettromagnetica diventa conduttore in questo circuito gira corrente si eccita il relè pony attira l'armatura e manda anche l'impulso a questo punto tramite la batteria più grossa al relè telegrafico uno si potrebbe chiedere perché l'utilizzo del relè pony è di due addirittura alimentazioni distinte perché il coesore è delicato e non può permettere il passaggio di correnti elevate le correnti che sono necessarie appunto per alimentare la stampante telegrafica e l'altro oggetto di cui noi necessitiamo che è il decoesore e quindi allora si utilizza questo sistema il relè pony chiude il circuito dell'utilizzatore insieme al circuito dell'utilizzatore quindi della stampante telegrafica c'è questo elettromagnete che adesso andiamo a vedere in un'altra forma più semplice ed è il campanello questo campanello qua privato della campana solo questa parte qui solo questa parte veniva utilizzato come decoesore è una bella genialata perché sappiamo che il coesore una volta investito dall'onda elettromagnetica rimane eccitato quindi c'è bisogno di disegitarlo con un lieve colpettino delicato sul tubetto lo abbiamo già visto nei video che ho fatto lo potete vedere su numerosissimi video già presenti in rete quindi il ruolo del decoesore è proprio quello di dare il colpettino al momento che arriva l'impulso elettromagnetico di dare il colpettino e riportare il circuito all'interruzione rilasciare il relè ed essere pronto alla ricezione di un nuovo impulso chiaramente il campanello ha bisogno di una corrente più elevata quindi non può stare all'interno di questo circuito quindi farà parte di questo qui è stato tolto praticamente il ricevitore telegrafico per semplificare il circuito negli esperimenti che andremo a fare di seguito utilizzeremo un led una lampadina insomma al posto della stampante telegrafica giusto a titolo informativo questo sistema del campanello di Marconi il decoesore è stato oggetto di ed è tuttora oggetto di dibattito internazionale perché in Russia praticamente quasi contemporaneamente a Marconi questo signore che vediamo qui nella foto Alexander Stefanovic Popov fece qualcosa di simile lo vediamo anche dallo schema ma lui in realtà pensò non tanto alla trasmissione pensò bensì a un sistema per rivelare i fulmini e li funzionò peraltro utilizzò il coesore come rivelatore di fulmini peraltro era lo stesso identico scopo di utilizzo di Calzecchi Onesti che lo fece anni prima però e realizzò questo strumento che vediamo è molto simile e ci fa anche comodo perché ci fa vedere veramente l'impiego del campanello che con il suo martelletto va a battere sul coesore che è con il coesore per resettarlo però l'utilizzo è completamente diverso ripeto è stato fatto per rivelare i i fulmini peraltro anche in maniera abbastanza grossolana qui dietro vediamo questo che è sempre il solito releg albanometrico perché il problema chiaramente si era posto anche a Popov sono molto simili per carità di dio però appunto gli scopi erano completamente diversi peraltro siccome sono praticamente coetane Popov lo fece praticamente questo attrezzo l'anno prima nel 1894 1895 però Marconi già ci stava lavorando alla trasmissione della telegrafia senza fili e quindi rimane una diatriba internazionale che però a metà degli anni 40 contemporaneamente alla diatriba che Marconi ebbe con Tesla in Russia decisero che l'inventore della radio era Alexander Stefanovich Popov e in America decisero in tribunale che l'inventore della radio era stato Nikola Tesla per il resto del mondo è rimasto l'inventore della della cosiddetta radio ma è più giusto definire della telegrafia senza fili Guglielmo Marconi questa è una diatriba che si trascina ancora oggi oramai insomma voglio dire abbiamo carte sufficienti per poter contestare questa questa idea anche perché ecco forse è più il Popov che ha initato e sfruttato le idee di Calzecchi Onesti dell'italianissimo Calzecchi Onesti che peraltro era uno scienziato non brevetto nulla perché da scienziato divulgò la sua scoperta tra gli scienziati e basta allo scienziato basta questo sono gli inventori che ne fanno una visione commerciale e sfruttamento economico ma gli scienziati no gli scienziati rendono noto la propria scoperta mettono nelle condizioni gli altri scienziati di ripeterla senza nulla pretendere anzi se uno scienziato ripete la propria esperienza avvalora la propria esperienza mentre invece tra gli inventori no tra gli inventori è subito Canizza perché ci sono i soldi di mezzo e quindi Popov dopo che Marconi comunicò praticamente la sua invenzione cominciò insomma a tirar fuori polemiche dopo si occupò di radiotelegrafia ma fino a quel momento insomma aveva fatto solo un rivelatore di fulmini abbastanza grossolano peraltro insomma perché il coesore che vediamo qui in questa foto è notevolmente grossolano rispetto ai coesori che furono usati da Guglielmo Marconi adesso è veramente grossolano vedete fatto con un tubettone grande i turaccioli mentre invece già Marconi già utilizzava dei coesori fatti ad hoc con tubi soffiati con il vuoto dentro con polvere d'argento insomma era già notevolmente avanti Marconi però ecco il signor Popov ne è diventata una bella polemica mi fece una bella polemica peraltro Popov morì molto giovane questo discorso che ho fatto poco fa della metà degli anni 40 dove da una parte il governo russo da quell'altra il governo americano appropriarono praticamente dei propri concittadini le paternità dell'invenzione avvenne dopo la morte di tutti pochissimo dopo la morte di Nikola Tesla che è morto mi sembra nel 46 Popov morì molto prima Marconi morto nel 36 non vado errato 36 o 39 quindi erano tutti morti morti e sepolti quindi questa polemica alla fine poco ci lascia mi avete seguito fino a qui vi ringrazio adesso andremo ai prossimi video dove passiamo alla fase costruttiva vera e propria grazie ed è veramente seguito fino a qui grazie mille grazie a tutti grazie a tutti